Ciao a tutti, io mi chiamo Billy Foster, qui su YouTube mi chiamano il top commentatore ed oggi mi metterò a nudo. Farò coming out, non vi dirò che mi piace la salsiccia perché io preferisco la patata, ma farò coming out sul mio stato psichico. Il mio peggior nemico si chiama depressione e non tutti ammettono di farsi accompagnare in tutta la propria vita da un'ombra impercettibile che ti fa percepire le cose in modo dannatamente più sensibile. C'è chi attira l'attenzione per richiedere aiuto piangendo e c'è chi addirittura per farsi notare tenta di togliersi la vita. E c'è chi come me invece che si è abituato a questa strana presenza. La ritiene quasi un'amica, quasi come se la felicità fosse una cosa da allontanare. A volte penso di voler evitare la serenità, quasi volontariamente, quasi come se il benessere potesse rendere la mia vita estremamente più noiosa. Ho un canale YouTube soprattutto per distrarmi, per non pensarci. E so che sembro forte, e lo so, non sia chiaro, ma tutti hanno qualche debolezza che non accettano di mostrare al prossimo. Anche perché farsi vedere fragile porta più svantaggi che vantaggi. Quindi spesso ci dimentichiamo che tutti proviamo delle emozioni. Dall'odio all'amore. Siamo depressi quando la donna che amiamo fugge. Siamo depressi se facciamo un lavoro che non amiamo. Siamo depressi quando un lavoro non lo abbiamo neppure. Siamo depressi se non riusciamo a raggiungere un obiettivo che ci siamo prefissati. Sì ragazzi, io sono Billy Foster e sono depresso. Forse non ne conosco neanche il motivo. Ma in questa vita solamente è una cosa è certa. E non è la morte. L'unica cosa certa è che sono il top commentatore di YouTube. L'unica cosa certa è che non è la morte. L'unica cosa certa è che non è la morte. L'unica cosa certa è che non è la morte. L'unica cosa certa è che non è la morte. L'unica cosa certa è che non è la morte. L'unica cosa certa è che non è la morte. L'unica cosa certa è che non è la morte. L'unica cosa certa è che non è la morte. L'unica cosa certa è che non è la morte. L'unica cosa certa è la morte. Grazie.